Benvenuti a Zenevreto, paese del comune di Monbello Monferrato. Oggi, 27 giugno 2021, ci ritroviamo per inaugurare il Murales. In qualità di presidente del circolo culturale Ancol Zenevreto, ringrazio tutti i presenti ed in particolar modo l'amministrazione comunale per il sostegno e l'impegno nella realizzazione di questa opera. Un grande ringraziamento anche all'autrice di questa idea, all'artista che l'ha realizzata ed alla ditta specializzata che ha reso idoneo il muro alla pittura. Grazie a tutti i collaboratori e partecipanti che hanno reso possibile questo intervento gradevole ed armonico nel tempo. Ed ora lascio la parola al sindaco. Buongiorno a tutti, benvenuti. Vi ringrazio anch'io di essere qua presenti e numerosi. È veramente un piacere vedervi qua oggi, vedere tutti i residenti, gli ospiti, gli amici in bicicletta che sono un po' l'oggetto del nostro murale. Ringrazio anche i colleghi sindaci della Valcerina che ci hanno fatto il piacere di essere qua presenti. Altri avrebbero voluto venire ma non hanno potuto. Ma adesso siamo comunque qua a rappresentare la comunità della Valcerina intera. Mi ha fatto veramente piacere questa iniziativa. Già l'anno scorso abbiamo supportato il circolo di Monbello e in questo caso il circolo di Zenevreto per la realizzazione di questo murale. Quando le iniziative nascono proprio dalla popolazione, dagli abitanti, è sempre un piacere. Qua a Zenevreto già da tempo si adoperano per abbellire il paese e i risultati li avete potuti vedere anche da voi. In questo caso qua c'era questa occasione, questa idea che da tempo era nata per ricordare un po' questi eventi ciclistici. E quindi abbiamo in breve tempo, abbiamo realizzato, o hanno meglio, avete realizzato l'opera e quindi siamo qui ad inaugurarla oggi. Per il futuro speriamo di poter fare altre realizzazioni, so che Mono è già stato contattato anche da altri comuni perché in tanti cercano di abbellire i paesi in questo modo e la cosa ci fa particolarmente piacere anche per essere stati un po' promotori tra i nanti di queste iniziative. Non aggiungo altro, ringrazio tutti, in particolare Mono, qui passo la parola perché anche lui vuole dirci qualcosa. Grazie a tutti. Pochi parole. del mio comune che è presente a nome dell'amministrazione comunale, di amici sindaci di Villa Deati, di Ponte Curone, di Ponzano, anche sempre del centro che comunque sempre è stato presente mentre realizzavamo l'opera. vorrei ringraziare soprattutto Vilma e Gianna che comunque sono sempre state un supporto nel lavoro insieme alle altre, portando anche quando serviva del caffè e dell'acqua, che non è poco. e a tutti gli abitanti di questo posto perché anche se è piccolissimo hanno partecipato e sono stati insieme a me a realizzare questa cosa. Io vorrei anche ringraziare ai nostri, della mia compagna Antonella e io, amici di sempre, che oggi sono venuti da Torino, dai nuovi nuovi amici che ci hanno conto in queste splendide terre, tutti sarebbero troppi da ringraziare. Ne cito uno per tutti, anche per ringraziarlo del bel video che ha realizzato qui a Senebretto, Franco Frey. Ancora due parole. Questa cosa dell'arte e dei murali ha qualcosa di strano. Abbiamo una mostra delle mie opere a Villa dei Atti, è arrivata una signora che ha guardato i quadri, qui c'era il giornale che parlava di questo murale di altri e ad un certo punto si è messo a piantere. Io chiaramente mi sono un po' preoccupato di quello che era e lei mi ha detto che era parente del suo Gabbiano, che è uno dei, di quelli che sopportava in qualche modo gregario di fa autocopi. Vorrei ricordare anche l'ultima cosa che dico a Bartali. Perché Bartali? Perché come ciclista, dentro i tubi della sua bicicletta, negli anni 43 e 44, ha portato i nomi di tanti ebrei che poi sono stati dalla Curia salvati. Credo che questo deve essere, come dire, la filosofia di questo murale e di questa parola d'ordine, avere la bici e avere le anni. Grazie. Adesso passiamo alla parola al dottor Marosanaco che anche lui ci racconta due cose interessanti su come è nata, perché e per come siamo qua oggi. Prego. Buon pomeriggio ancora a tutti. Mi è stato chiesto di raccontarvi ancora qualcosa. Vi parlo sia come rappresentante nel seno del Consiglio Comunale per la frazione di Genevreto, dove abito e quindi come abitante, e anche come ciclista dilettante. Il murale, opera dell'artista Carrasco, nasce per una continuità qui da noi a Genevreto, nel desiderio di arricchire sempre più il paese per un abbellimento ambientale. così come ormai da diversi anni operano tutte le signore del paese. Il muro è un muretto contenitivo, come potete vedere, e si sviluppa per una lunghezza di circa 22 metri e quindi è stata, diciamo, una cosa che ha permesso di realizzare e di accogliere quest'opera dove sono stilizzati sette ciclisti in procinto di affrontare la salita. Dove, appunto, nella fatica, il gruppo si sgrana e quindi gli atleti si possono immaginare, si è bustilizzati nello sforzo agonistico. In fondo compare, come potete vedere, la sagoma di una bicicletta antica, antisegnana agli albori della realizzazione delle biciclette, velocipedi. E questo vuole essere un tratto di unione nella visione storica della costruzione anche di questo tipico mezzo di una mobilità sostenibile che nella continuità storica, oggi, nell'attualità, ci porta ad avere poi le biciclette, le biciclette, le bike. Il tema sportivo, poi, vuole ricordare ciò che si svolse qui a Zenevreto negli anni che vanno dal 1965 al 1974. Infatti, vennero svolte diverse gare ciclistiche di natura agonistica nella categoria degli allievi, dove poi sicuramente alcuni di loro sarebbero poi passati al professionismo. Il ciclismo, tra le varie discipline sportive, riprende assolutamente i principi che contraddistinguono tutti gli sport. Una sana competizione, il continuo tentativo degli atleti di superare ogni limite, ma forma anche il carattere dei giovani e consente, in una maturazione, di accettare la sconfitta e di applaudire il merito degli altri. Lo sport, lo citavano già gli antichi, è un mensano in corpore sano e deve entrare nel quotidiano di ognuno di noi un atteggiamento sportivo della vita che porta a una nostra vita più salubre. E proprio connotato da questi principi, abbiamo il piacere e l'onore di dedicare il tema di questo murale sul ciclismo ad un nostro compaesano d'adozione, che tanto amò e si contraddistingue in questo sport. E mi riferisco a Elso Gabbiano. Classe 1928 Fu un ciclista professionista negli anni che vanno dal 1952, 53 e 54, con grande passione e abnegazione. Possiamo ricordare, tra le sue imprese, il primo posto nel trofeo Aliprandi Coppa Simplex a Tortona nel 1953. Il primo posto nella Torino Biella del 1952, che sarebbe poi diventata una classica come Giro del Piemonte. Un primo posto nella Coppa San Bernardo, corsa in salita, nella prima edizione del 1949 sugli appennini Alessandrini. Inoltre lo ricordiamo con altri ottimi piazzamenti nella Coppa Città di Bra, nella Milano Torino e ancora nella Sassari Cagliari. Tornando agli avvenimenti di Zenevretto, seguirono poi negli anni 80 ancora diverse manifestazioni di natura cicloturistica. Concludendo, lascio a tutti l'auspicio che questa opera d'arte di strada possa attirare molti ciclisti qui a Zenevretto, sia professionisti che direttanti. E che salendo a Zenevretto possa percepire nell'opera il momento stilizzato della fatica, sì, ma anche della soddisfazione sportiva nell'affrontare i saliscendi delle nostre bellissime colline del Monferrato. Grazie. Visto che abbiamo anche l'onore di avere qua la signora, la moglie, la vedova di tale Elso Gabbiano, verrà lei a tagliare il nastro per inaugurare il murale. Dopodiché verrà scoperta una targa a memoria e in memoria proprio di questo evento. E adesso scopriamo anche la targa, un attimo solo. Ecco qua, dedicato ai ciclisti di ieri, di oggi e di domani, che scelgono le nostre colline per i loro percorsi, alle corse agonistiche che ho organizzato negli anni 60 e 70. E al grande campione, Elso Gabbiano. Grazie. 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 Grazie.